come identificare un cambio di tendenze sui mercati oggi siamo qui appunto per parlare di questo attraverso i grafici attraverso degli esempi pratici io come sapete sono arduino schienato iar forex.com price action trader e da molti anni appunto sviluppo per me e per tutta la community che mi segue un approccio al trading fatto diciamo esclusivamente per la price action e quindi da tanti anni condivido video di questo tipo lasciate ovviamente un mi piace se questo video poi sarà di vostro gradimento e se vi sarà di supporto alla vostra operatività partiamo subito e vediamo un po che cosa voglio spiegarvi oggi in questa video pillola in maniera molto semplice come identificare appunto un cambio di tendenza quindi riuscire a capire quando un mercato che noi magari abbiamo tra i mercati su cui facciamo trading può invertire quella diciamo quel trend di fondo che spesso ci aiuta nelle nostre nei nostri posizionamenti a mercato nel trading di breve termine ma in realtà possiamo dire che queste cose possono essere d'aiuto anche per chi fa magari anche investimenti un pochino più di lungo termine allora intanto partiamo dal presupposto che il mercato che noi andiamo a osservare sia su un time frame ampio time frame ampio io mi trovo molto bene quel grafico settimanale come potete vedere dal grafico che ho qui al mio fianco questo è l'indice Mib italiano ma poi possiamo fare anche esempi su altri grafico settimanali perché il settimanale ci permette di valutare bene la tendenza di fondo quindi senza andare troppo nel breve quindi grafici daily o addirittura più giù grafico settimanale ci permette appunto di osservare le macro tendenze quelle che possono durare anche degli anni se noi infatti prendiamo per esempio ecco facciamo dai minimi qua prendiamo un po' più di storico eh se prendiamo dai minimi tutto il trend rialzista che c'è stato tra il duemila e vento e il duemila e ventidue inizio duemila e ventidue del del dell'indice italiano poi duemila e ventidue tutto ribassiste poi ultimo no un movimento rialzista ecco tutte queste situazioni si possono identificare andando ovviamente a fare una uno studio un'analisi di quelle che è appunto la dinamica che si viene a creare su grafico settimanale e eh vedere quando sta cambiando quando è che cambia come identificare questo cambio allora come noi eh facciamo sempre come voi vedete qui abbiamo il nostro grafico con l'unico indicatore che utilizzo che è la media esponenziale a ventuno periodi che ci permette un pochino di identificare diciamo di andare a confermare un po' la tendenza di fondo esponenziale proprio perché va a pesare eh con la ventuno gli ultimi cinque eh periodi le ultime cinque barre in questo caso settimane quindi diciamo che è un po' più rapida nel nel suoi cambiamenti e per me è importante avere un po' di rapidità nel cambiamento anche perché facendo trading diciamo che ho bisogno di eh un filtro chiamiamolo così un po' più reattivo ehm come possiamo notare qui il mercato era era andato long e avevamo vedete tutti i minimi e massimi di swing crescenti quindi la cosa che dobbiamo andare a vedere sono i minimi no i minimi che crescono anche qui vedete ci sono questi minimi su questa eh candela qui su questa settimana qui il mercato ha fatto sì un nuovo minimo ma l'ha recuperato quindi non ha mai chiuso al di sotto di quello questo è molto importante se avesse chiuso al di sotto di questa zona poteva essere che il mercato iniziasse a cambiare un po' la sua forma infatti guardiamo bene qui abbiamo guardate minimo massimo minimo massimo minimo massimo minimo qui addirittura abbiamo un massimo che non ha rotto in maniera seria già questo può essere un avvertimento perché vedete mentre le altre volte ogni volta che rompeva dava una spinta successiva quindi rompeva spinta rompeva spinta quindi creava eh ogni a ogni massimo una spinta in questo caso come si può notare abbiamo una rottura e un recupero quindi non c'è stata una continuazione questo diciamo potrebbe essere un primo campanello d'allarme della difficoltà di quel mercato io però un mercato del genere non è che lo vendo qua perché l'idea non è quella di cercare i massimi ma i minimi chi se ne frega l'importante è entrare al momento giusto quindi in questo caso poi la conferma vera della tendenza che sta cambiando qual è questa questa barra qui short che va a settimanale che va completamente a rimangiare tutti i minimi precedenti rialzisti quindi non questa che fa il movimento di recupero e quindi poteva essere identificata come questa quindi minimo e recupero ma minimo recupero e poi la settimana dopo addirittura apertura in gap insomma movimento short e chiusura sotto ecco che da qui si sancisce diciamo il la fine di quel trend rialzista in questo caso l'indice italiano e un inizio di un movimento diverso tant'è che poi durante tutto praticamente qui eravamo a febbraio tutto il 2022 ci sono state delle ottime opportunità short adesso ho preso l'indice italiano non potrei prendere altri magari poi vediamo anche una valuta non lo so così per cambiare anche il tipo di asset e ci sono state poi ovviamente nei recuperi qui abbiamo per esempio un ftv power ftv classic abbiamo ftv classic ftv anche se questa non è da tradare è altra ftv quindi abbiamo tutte delle dinamiche che poi ci confermavano nei ritracciamenti di cercare degli spunti short prima di tutto su weekly come conferma ovviamente e poi si può andare direttamente sul daily e voi provate a pensare che tutte queste discese qui che durano settimane settimane sul daily ci sono spesso delle dinamiche di qualche giorno a livello di prezzo che ci portano ad avere il trigger confermato una dinamica di price action confermate quindi di andare nella direzione della tendenza quindi cambiamento stessa cosa qui noi quindi allora la regola 1 è ritorniamo al di sotto ritorno al di sotto ema 21 in questo caso o sopra ovviamente seconda regola close per il trend short sotto per il trend long sopra il minimo o massimo precedente quindi cosa vuol dire vuol dire che nel momento in cui adesso io qui ho massimi di swing che fanno ovviamente da da ribasso fanno un po da da resistenza per i ribassi da swing ai proprio no il massimo di swing boom massimo di swing boom massimo di swing boom massimo di swing boom movimento eccolo qua ritorno al di sopra della media e con questa anche qui si sancisce diciamo la fine vedete proprio rottura completa dei massimi precedenti in piena volatilità chiusura sopra chiusura sopra la media mobile quindi cambia in questo momento il mercato mercato italiano è in questo momento un mercato che non ha più la tendenza di prima che una tendenza short che fino a questa barra era una tendenza long ricordiamoci e in realtà adesso la tendenza è long quindi tutte le fasi di ritracciamento con gestione che poi portano sul weekly a uno dei miei trigger long penso alle tv per esempio poi posso direttamente tradare nella tendenza long direttamente sul settimanale o fare sia quello e magari andare su daily o faccio un po' di mix per esempio posso andare direttamente sul weekly e poi magari andare a cercare anche il daily oppure aspettare sul weekly andare sul daily che spesso mi dà delle opportunità di entrare poi a mercato ma nelle settimane successive e quindi entrare nella direzione più importante in questo video non parleremo di dove posizioniamo lo stop il paracadute queste cose magari ne parleremo in una prossima pillola anzi vi chiedo di scrivere dei commenti qui di interagire e ho visto che qualcuno ha già scritto qualche commento per esempio relativo alle false rotture faremo dei delle video pillole anche su questo e scrivete se volete che parlo di qualche che io vado a discutere di qualche buon come dire non solo setup ma dell'approccio in generale quindi di alcune parti dell'approccio io utilizzo per il trading ditemelo che così lo faccio poi nelle prossime pillole insomma così ho delle idee in più se me le date e magari ne volete sentire di alcuni argomenti volentieri ne parleremo qui avete capito cambiamento cambiamento potremo prendere anche l'euro dollaro se vogliamo ecco qua sempre weekly ovviamente eh anche l'euro dollaro se vogliamo guardate prendiamo sempre da qui a qui così vediamo poi i cambiamenti vari eh ed è più giusto a livello didattico così capite meglio a cui mercato che sale mercato che sale mercato che sale guardate boom ribasso al di sotto del minimo precedente non è andato sotto questo però sotto la media qui potrebbe essere iniziata il cambiamento tant'è che in effetti è successo mercato però poi guardate non ha mai mostrato dei trigger dei nostri quindi è andato giù non ha mai fatto vedere uno swing con un trigger è ritornato sopra la media è andato a ritestare questi massimi senza mai romperli a rialzo e poi guardate ribasso grande volatilità sotto la media vediamo quando sfonda qui eccolo qua da quando inizia veramente a rompere qui c'è proprio il cambiamento poi in realtà già qui noi vediamo un cambiamento no e quindi già si può iniziare a operare più nel trend breve di quel momento ma se vogliamo proprio parlare di eh cambio di tendenza eccolo qui il cambio di tendenza arriva quando richiude al di sotto del minimo precedente è addirittura sotto la media da svariate settimane inizia proprio una dinamica short assolutamente importante e qui siamo agosto settembre del duemila 21 quindi voi provate a ben capire la dinamica e nell'ultimo periodo guardate un po' anche qui l'euro dollaro ci mostra un cambiamento di tendenza perché perché se prima eravamo costantemente no con dei massimi decrescenti minimi che continuavano a essere decrescenti e chiaramente fornivano nuovi minimi da questo minimo il mercato è iniziato a salire guardate qua barra di grande volatilità chiusura al di sopra della media e chiusura al di sopra dei massimi precedenti poi adesso anche con questa quindi anche sull'indice ehm come sull'indice italiano anche sull'euro dollaro si è venuta a creare una dinamica di cambiamento di tendenza che ovviamente adesso andrà dovrà essere confermata con magari un mini swing dei segnali no che ci confermino come è successo poi successivamente perché ovviamente questo è il segnale diciamo che ci fa pensare che possiamo identificare un cambiamento di rotta ma poi dobbiamo avere delle conferme degli swing i classici 1 2 3 i classici movimenti di swing che danno delle conferme con dei trigger per andare ulteriormente a comprare questo mercato quindi eh diciamo che capita a fagiolo questa eh l'ho fatta apposta perché in questo ultimo periodo in effetti ci sono stati dei cambi di tendenza che duravano da un po' mi viene in mente appunto l'euro dollaro che durava da ormai un paio d'anni questa tendenza short eh mi viene in mente però anche l'indice italiano alcune alcuni alcuni mercati insomma in questo caso due mercati tra i quali insomma tengo sempre molto monitorati nella mia lista principale euro dollaro l'indice italiano e mi sembrava corretto insomma andare a prendere quelli che utilizzo di più anche perché forniscono in effetti a livello didattico eh i giusti esempi ok bene eh spero di essermi spiegato bene come avete visto è abbastanza facile semplice riuscire a eh capire quelle che sono queste dinamiche di cambio di rotta sono dinamiche che mi sono creato io nel tempo eh non 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 le leggete non le trovate nessuna e nessun libro di analisi tecnica cose di questo tipo al massimo i miei libri ma non in in giro quindi è tutta esperienza eh lasciate un mi piace come vi ho detto all'inizio lasciate dei commenti datemi degli input eh anche se volete ulteriori esempi di questo tipo di eh view no di cambio di rotta nel nei mercati e lasciate appunto un bel like e noi ci vediamo al prossimo video a presto buon trading insieme ciao a tutti